fare l'esperienza della famiglia che è un'esperienza anche quella però grazie Alessia grazie a chi mi sta mandando la richiesta su Instagram semplicemente lo uso, non lo apro, eccetera, eccetera io vi aspetto solo sul sito bianco blu ti piacciono un ragazzo che ha gli occhi verdi e celeste? sì, ma poi se non ha altre cose ma io già lo sono, sei tu Lucas che magari non abbiamo un buon match una buona sintonia già uno che mi dice però ci devi mettere no no twerka Charlie solo nel sito bianco blu com'è la tua patong? ho fatto un sondaggio su questo secondo te com'è? marshmallow, cocco o com'era l'altra? Gaia non twerko qua twerko solo sul sito bianco blu telegram sì ce l'ho ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho trovi il link nella bio di Instagram Fabio il link è nella biografia di Instagram quindi devi trovare il mio Instagram prima di tutto descriverla con tre aggettivi non posso qui caramello esatto Gianluigi caramello è la migliore vaniglia la meraviglia la meraviglia del blocco anche vaniglia mi piace I love you thank you baby come faccio a trovarti su bianco blu? Fabio vai su Instagram che poi è sempre Fabio che me lo chiede vai su Instagram e lì c'è una biografia che ho scritto non uso chatto solo su ecco clicca lì leaf socks a 10k no Samuel non levo niente non tolgo niente se tu vieni su only on my website white and blue link in bio on IG cosa metti sul sito tutto mondo fetish piedi non posso dirlo qua comunque piedi contenuti piedi 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 come ti chiami su IG basta che entri qua su TikTok sulla mia biografia e trovi il nome direttamente oppure trovi il pulsantino dove cliccare entrare direttamente sul mio IG uno che non sopporto del GF è Donna Maria sai che io seguo i principali attori io li chiamo del GF non tutti allora Antonella il ragazzo di Antonella che non so come si chiama forse è lui Donna Maria non lo so e poi Daniele e la regina che è cavoli mi dimentico del nome della regina vabbè e Luca Onestini però non è che lo seguo molto hello no non sto ferma ho voglia di muovermi vedo l'ora di vedo l'ora di uscire di andare a mangiare sono già le 4 cavoli vendile sì assolutamente a Franz certo ah è lui Donna Maria ok non lo supporti ma è strano è vero che è strano raga un po' strano Donna Maria sì è strano è stato squalificato cosa ha fatto Carmen perché è stato squalificato perché era strano sei in vestito o pigiama allora ho il vestito sopra la vestaglia è uscito ti pago se non funziona proprio così Alberto Roberto a Lione è strano di brutto sì è molto strano dove posso acquistarle nel sito biancoblu clalo56 sito biancoblu link nella bio di Instagram aspettate perché mamma mia ha insultato pesantemente Antonella ed è uscito ma infatti Antonella è un po' stile Rihanna che si fa pigliare si fa sottomettere un po' e a me sta cosa non è che mi piaccia molto sì no no non esiste e come funziona ma io Alberto tesoro non sono una una che ti spiega molto come funziona cioè non faccio questo quali sono le calze velate preferite quelle con i segni zodiacali le ho messe l'8 marzo ho fatto delle live non qua su Kimberly Huawei quindi c'erano qual è l'obiettivo fare un countdown al raggiungimento dei 20 cuori e Sandro e insomma c'è di tutto c'è qualsiasi età le persone sui social faresti una serata a ballare con me non amo ballare Marco attenta dietro a te ci sono due piedini che si muovono esatto che lingua grande hai visto Damian hai visto l'ho detto sei mi accorta che qualcuno ti fissa i piedi in pubblico no non me l'ero mai accorta però ci farò caso quest'anno sbatti le piante di dove sei Lione potresti fare sì è vero Alberto però non sono molto interessata a questo in questo momento almeno calzini orrendissimi ma ci sta guarda c'è chi piacciono a chi non piacciono e quindi ognuno ai suoi gusti prossimo viaggio ma non organizzo i viaggi non non amo organizzarli a me piacerebbe fare l'ultimo non amo tipo fra un mese due mesi ad agosto parto no non amo fare questo cioè proprio io sono da prendo e vado quindi non non mi riesco a organizzare così fai il rumore con i piedi ci farò a caso di più quest'anno perché io finora non ci avevo mai guardato se qualcuno mi guardava i piedini dammi una dritta a chi chiedere ma Alberto è vero che anche l'uomo può spopolare per carità però non saprei proprio come che dritte darti a te in generale c'è qualcuno alla finestra sono io sei fidanzata sì mi saluti ciao è Lara Lara no Massimo solo sul sito bianco blu se no li tengo grazie finalmente siamo in the pause sto finale sì mister raga vado a mangiare vado a farmi gli spaghetti lo so che voi avete già pranzato io no quindi devo andare a mangiare poi dopo vado a fare un po' di corsa e poi torno da voi da te una bella giornata sì perché da voi no in Italia no quanti anni hai 31 hi miss hi baby Clara te è fidanzata chi è do you speak english yes stupenda thank you grazie ciao cara ciao Mauro lingua fai cose su tele ma vai cioè non è chiuso puoi andare a vederlo vado a mangiare vado a farmi gli spaghetti da noi prima piove c'è il sole piove c'è il sole ma dove sei Maya si può essere ma non è chiuso ma ma è chiuso ma 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 Grazie a tutti